Amiche da VinciMontipaccia.com, siamo in piazza 27 gennaio, siamo in compagnia di Salvatore Spinelli, candidato consigliere nella lista di fare futuro. Buonasera a tutti, sono Salvatore Spinelli appunto, ho 27 anni, residente a Montediprocida, nella piccola periferia di Cappella. Attualmente gestisco un'associazione sportiva di lente artistica, qual è il motoclub Montediprocida. Allora Salvatore, perché hai scelto di entrare in politica? Beh, la mia scelta di entrare in politica nasce dall'amore che ho per questo paese e dalla voglia di dar tutto a me stesso per far sì che appunto il progetto che presentiamo stasera venga realizzato per far sì appunto che Montediprocida diventi un paese migliore. E sono sicuro che ci sono tutte le potenzialità per poterlo fare. Perché fare futuro? Fare futuro, perché fare futuro? Perché non ho mai avuto dubbi sulle capacità amministrative di Rocco e perché c'è una lista valida che può far veramente bene e c'è tanta voglia di far bene. Secondo te, la prima cosa che bisogna fare una volta vinta l'elezione? Beh, oltre ai progetti che stasera abbiamo appunto illustrato, io penso che bisogna mettere in atto le problematiche che ci riportano, cioè che ci riporta il quotidiano, amministrare il paese, ma a partire dalle piccole problematiche, quale può essere la pulizia delle strade, appunto la manutenzione del paese. Un messaggio agli elettori? Mi raccomando, il 3-1 mangio fate la scelta giusta, in quanto fare futuro è la lista migliore che possa far sì che Montediprocida diventi appunto un paese migliore. Allora, facciamo in bocca al lupo a Salvatore Spinelli, grazie per essere stato con noi. Vi ringrazio, grazie mille. Grazie mille.